Come tutti sapete ho deciso di annunciare la squadra di quelli che saranno gli assessori in caso di vittoria. E' giusto farlo, è giusto comunicarlo perché i cittadini devono sapere gli uomini, le donne, i professionisti con i quali intendiamo amministrare Taranto. Una questione di trasparenza, di linearità, di scelta per il cittadino. Ho designato ai settori lavori pubblici, opere pubbliche, urbanistica, edilizia, patrimonio, risanamento della città vecchia, in una parola così sintetizzante, in un'espressione sintetizzante, le opere pubbliche per Taranto. Ho designato la persona dell'architetto Luca Lopatriello. Lo abbiamo già conosciuto come curriculum, come i suoi precedenti appunto da professionista. Oggi vogliamo affrontare con lui il tema della visione che lui come progettista ha per Taranto. La visione di Taranto. Grazie Luigi di questa possibilità. Quando Luigi un giorno mi ha chiamato e mi ha dato la notizia di avermi scelto nella squadra, ho detto che è un bel fardello da portare perché c'è tanto. Ma come ripeto, a me piacciono le sfide e in ogni cosa che ho fatto ho sempre messo i punti. Quindi penso di essere la persona adatta. Adesso c'è tanto da lavorare, ma quello che si presentava alle mie orecchie, diciamo, quando me l'ha detto Luigi, era proprio la sfida. Questa sfida è doppia per Taranto. Perché da un lato ci sono sì grandi progetti da fare, ma dall'altro contemporaneamente, se non anche in modo più urgente, ci sono delle cose da risanare, delle cose da mettere a posto. Ecco, quindi tengo a precisare che tutto parte da quello che dicevamo prima, che Luigi diceva prima, che è la visione. Cioè, la domanda che dobbiamo porci tutti è cosa vogliamo che sia Taranto fra 30, 40, 50 anni. E dobbiamo essere convinti che a fare ciò possono essere i tecnici, l'amministrazione certamente, ma anche i cittadini. Quindi, in questa visione che avremo di Taranto, la Taranto che vogliamo costruire, l'obiettivo da raggiungere, dobbiamo sederci tutto intorno al tavolo. Noi, tecnici, ripeto, ma soprattutto quelli che io ritengo i committenti veri, cioè la popolazione, i tarantini, i veri beneficiari, che poi siamo anche noi indirettamente, i veri beneficiari delle opere, che non devono, attenzione, subirle. Perché adesso vediamo quotidianamente per la città opere che il Tarantino subisce. Non può dire il Tarantino di essere orgoglioso, di vedere marciapiedi rotti, grate che non funzionano, zone buie, non illuminate, insomma. E quindi la visione della città è una visione di una Taranto proiettata verso il futuro. Una Taranto condivisa, partecipata. Sì, io ci tengo molto a questo, perché sì, è vero, ho avuto anch'io questa impressione. Taranto vive un po' all'ombra di Bari, no? O comunque Taranto deve sempre andare a lemosinare i progetti, a copiare. Taranto ha delle risorse che noi dobbiamo riscoprire. Tecnici, pensatori, artisti, professionisti, in una parola, professionisti che possono dall'interno rendere grande Taranto. Non dobbiamo andare sempre a cercare le professionalità fuori dalla nostra città. Quindi, dico, questa visione è condivisa. Dobbiamo capire, e sappiamo già, insomma, in qualche modo Taranto deve andare verso la città smart, verso la rigenerazione urbana, come molte volte si è detto, ma nulla si può fare nel rigenerare qualcosa che sta morendo. Cioè, già nella parola stessa, rigenerare, vuol dire prendere qualcosa che fondamentalmente è vivo e portarlo a una nuova vita. Taranto ha alcune zone di periferia, alcuni problemi veramente grossi, che, voglio dire, più che rigenerazione, scusate, servirebbe una trasformazione radicale. Ecco, quindi, e parliamo ancora, insomma, di mobilità sostenibile, di sviluppo sostenibile. È giusto, noi non dovremmo mai pensare oggi di soddisfare i nostri bisogni, no? Senza tener conto che un domani dovremmo lasciare che anche i nostri figli abbiano la capacità di soddisfare i loro. Quindi, Taranto deve andare su questo binario. Però, per fare questo, Taranto deve fare un piccolo passo indietro e sanare quelle che sono le grandi ferite che il territorio ha. Questo è importante per me.